Prima di tutto grazie per l'invito, sono contento di essere qui all'Università di Parma, per noi è una bella occasione di condividere quelle che sono le nostre esperienze nel settore dell'agricoltura e della sostenibilità. Allora, prima di entrare nel merito delle cose che facciamo, del perché le facciamo e di come le facciamo, vorrei spendere due parole per raccontarvi qual è il nostro mestiere, che non sempre è così noto. La nostra è un'azienda che si occupa di prima trasformazione e quando penso alla nostra filiera vedo un'attività in campo fatta da circa 750-800 agricoltori in Italia che producono e gestiscono in qualche maniera il processo fotosintetico, quindi prendono dell'acqua, prendono della CO2 e attraverso la fotosintesi producono zuccheri e ossigeno. Questo vuol dire, nei nostri numeri, 600 milioni di chili di pomodoro che ogni anno vengono lavorati. C'è un'attività fatta in stabilimento, il mestiere del nostro settore è quello di allungare la vita attraverso un processo termico del prodotto che passa da essere un prodotto deperibile a essere un prodotto disponibile per l'intero anno e per più di un anno. A noi piace pensare che nella nostra filiera ci sia anche il consumatore, che anche lui ha le sue cose da gestire e quindi si occupa sicuramente dal punto di vista della sostenibilità. C'è il tema della gestione di fine vita degli imballi, così come c'è anche il tema degli sprechi alimentari, che è qualcosa che è stato portato all'attenzione del pubblico recentemente. Parlando di impatto ecologico delle nostre attività, noi abbiamo identificato, all'interno di questa filiera, abbiamo identificato tre aree. La impronta idrica è quella più importante dal punto di vista dell'approvvigionamento della materia prima. Considerate che noi siamo strettamente legati all'attività agricola perché ogni giorno, nell'arco della giornata, facciamo le nostre lavorazioni prendendo il pomodoro direttamente dalla campagna. L'impronta idrica, come ben sapete, si declina in un'impronta di colore verde, che è quella legata alla localizzazione dove si trovano le nostre produzioni. Le nostre produzioni si trovano in Emilia Romagna per il 75% delle produzioni che facciamo al nord e in Puglia per le produzioni tipiche del sud, i pelati, i ciliegini e così via. L'impronta verde dipende quindi da dove si trova la coltivazione del pomodoro e poi abbiamo l'impronta blu, che invece è l'acqua direttamente utilizzata per l'irrigazione, il pomodoro va irrigato. L'impronta grigia invece è quella che è legata all'impiego di mezzi tecnici in agricoltura, che sono i nutrienti per far crescere le piante e gli agrofarmaci, che sono le sostanze che utilizziamo per difendere le colture da insetti e malattie presenti. Quindi l'impronta idrica è quella più importante dal punto di vista dell'approvvigionamento. Dal punto di vista del processo in sé l'impronta più importante è quella del carbonio, perché sappiamo che il nostro processo alla fine è un processo che richiede energia per scaldare questo prodotto e renderlo durevole nel tempo. Dal punto di vista del consumatore finale, appunto dicevo che il tema è quello degli imballi, noi da questo punto di vista abbiamo lavorato per cercare di rendere la gestione degli imballi più sostenibile attraverso una scelta di materiali riciclabili. Fatta questa premessa, il ragionamento che volevo fare riguarda sostanzialmente sul concetto di sostenibilità che ci è stato anche prima presentato. Quindi la sostenibilità vuol dire riuscire a soddisfare i bisogni delle attuali generazioni senza compromettere la possibilità di soddisfare questi bisogni da parte delle generazioni future. Per rispondere a questa domanda, se sia possibile, come sia possibile fare questo processo, dobbiamo integrare due numeri, due ragionamenti. Uno riguarda l'aumento della popolazione. La FAO ci dice che nei prossimi 30 anni la popolazione passerà da 7,8 miliardi a 9, qualcosa. Quindi sono 2 miliardi di persone in più che consumeranno cibo. Un altro elemento molto importante è che la terra disponibile per le coltivazioni non credo che possa essere ampliata. Sono sicuro che non si può aumentare la superficie agricola del 25%, così come è previsto l'aumento di consumi della popolazione. Quindi questo sicuramente è un tema. Il terzo tema è quello della vulnerabilità delle rese. Noi ci troviamo ad affrontare con il cambiamento climatico, e l'abbiamo sperimentato in questi ultimi anni, dei grandi problemi dal punto di vista della predibilità delle rese, della programmazione delle produzioni, per effetto dell'innalzamento della temperatura, per effetto dell'aumento della frequenza dei fenomeni estremi, per effetto della diversa distribuzione della pioggia durante l'anno. Avere a che fare con, quindi rispondere alla sostenibilità, considerando che si sederanno a tavola ogni 10 persone, altre 2 persone. Considerando che c'è una situazione di cambiamento climatico che nella migliore delle ipotesi creerà il problema di volatilità, ma potrebbe creare problemi ancora più gravi. Considerando anche che la terra disponibile non c'è, sostenibilità per me vuol dire più tecnologia, non intensificare, ma riuscire a ottenere dallo stesso ettare di terreno una quantità superiore di produzione, ottimizzando i mezzi tecnici. Quindi dalla stessa quantità di acqua dobbiamo cercare di ottenere quello che ci serve. Poi c'è ovviamente anche il tema della dieta, forse dovremo anche ripensare certe abitudini alimentari che riguardano per esempio il consumo di carne, ma non mi allargo su questo tema. Quindi per me la sostenibilità dei prossimi 30 anni passa attraverso una scelta di questo tipo, quindi io vedo nella sostenibilità il bisogno di avere più tecnologia, quindi più investimenti in tecnologia, più saper fare. Noi che cosa abbiamo fatto su questi temi? Abbiamo detto abbiamo un tema di impronta idrica, abbiamo un tema di impronta di carbonio e abbiamo un tema per quello che riguarda i consumatori. Sull'impronta idrica che riguarda, ripeto, agrofarmaci, nutrienti e anche l'impiego dell'acqua direttamente, noi abbiamo preso una strada della produzione integrata ancora 20 anni fa. Nel settore del pomodoro siamo stati i primi a certificarci per questa modalità di produzione che oggi viene richiamata anche dalla strategia Farm to For come una delle strade per ridurre l'impatto dell'agricoltura. Quello che abbiamo fatto è stato quello di certificarci, di implementare delle cose che all'epoca, 20 anni fa, erano non di facile accettazione da parte del mondo agricolo, ma oggi spesso viene considerato uno standard. Dieci anni fa abbiamo iniziato una collaborazione con il WWF per cercare di misurare l'impronta idrica del nostro processo produttivo, di cercare di mitigarla. Ci siamo andati in obiettivo di riduzione che l'abbiamo raggiunto nel 2015. Finita questa esperienza che era focalizzata solo sulla parte blu dell'impronta idrica, abbiamo lavorato sullo sviluppo di strumenti di supporto alle decisioni, che sono delle cose che girano sul computer e che aiutano gli agricoltori a fare scelte corrette, non solo nell'impiego dell'acqua irrigua, ma anche nell'impiego dell'agrofarmaco o dell'impiego del nutriente. Quindi la logica è quella di ottimizzare, migliorare la qualità e spendere meno e consumare meno risorse. Recentemente abbiamo finanziato una ricerca un po' venieristica fatta dal CNR di Parma, che prevedeva l'utilizzo di un filamento inserito nella pianta in vivo per misurare il fabbisogno d'acqua, quindi per avere una misura molto precoce. Era una ricerca che era proprio all'inizio, noi abbiamo lavorato per fare una taratura di questi metodi. Quindi per noi il tema dell'impronta idrica della nostra filiera l'abbiamo affrontato cercando di raccogliere dati, mettendo insieme strumenti, dando assistenza tecnica ai nostri fornitori. Per quanto riguarda l'impronta di carbonio, quello che abbiamo fatto è stato quello di cercare di ottimizzare, anche per semplici motivi economici, l'impiego di energia di cui abbiamo bisogno per scaldare. Nel periodo 2010-2015 abbiamo registrato, con l'inserimento di innovazioni tecnologiche, dal quasi banale pannello solare sul capannone dello stabilimento a tutte le misure di efficientamento, una riduzione dell'impronta di carbonio per unità di prodotto del ben 27%. Con le recenti acquisizioni che abbiamo fatto dopo il 2015, la prima a Oliveto Citra Salerno e la seconda a Collecchio, sempre qui a Parma, con i nuovi investimenti che sono stati fatti per l'adeguamento degli impianti, tenendo sempre con grande attenzione l'aspetto del risparmio energetico, siamo riusciti a contabilizzare una riduzione delle emissioni, del consumo di energia, dell'ordine del 5% nel periodo 2020-2017. Oggi abbiamo installato nel 2021 un impianto di cogenerazione nel nostro stabilimento storico di Basilica Nova, quindi noi sia per motivi economici ma per motivi anche di sostenibilità ambientale abbiamo lavorato molto anche su questo aspetto. Per quanto riguarda gli imballi, i nostri imballi sono riciclabili al 99%, quindi i nostri imballi primari e secondari hanno questo livello di riciclabilità. Dal punto di vista delle latte utilizziamo materiale riciclato per il 76%, sul vetro solo il 10%, pensiamo che qui ci sia spazio di miglioramento, e in generale sul tema plastica abbiamo una quantità di plastica nei nostri imballi che è un 1% negli imballi primari e meno del 3% per quanto riguarda imballi primari e imballi secondari. Sul tema dello spreco alimentare, la nostra azienda storicamente ha seguito con grande attenzione l'evoluzione dei consumi, ma questo proprio facciamo un'analisi di tipo quasi storico, perché il famoso tubetto è una strategia per poter utilizzare il tubetto di concentrato ripetutamente, perché con questo tappino di plastica si riesce a utilizzarlo e il prodotto è sempre fresco. Così come anche la lattina da 250 grammi della polpa, piuttosto che la bottiglia di passata da 400 grammi, va incontro all'evoluzione delle dimensioni delle famiglie, ad avere una tavolata a 10 persone finisce che molti di noi oggi sono soli a farsi un piatto di pasta asciutta. Quindi anche da questo punto di vista, e questa è una cosa che i consumatori hanno molto apprezzato, avere una confezione che non avesse una parte non consumata, quindi ci siamo mossi anche in quella direzione. Quindi queste sono le attività che abbiamo fatto, abbiamo cercato di fare delle collaborazioni, abbiamo lavorato sul fronte della mitigazione. Dal 2021 abbiamo cominciato a prendere in considerazione non solo la mitigazione dei nostri impatti, ma anche la possibilità di fare delle azioni di tipo proattivo. Quindi in questo caso stiamo parlando di un progetto che abbiamo denominato Mille Querce, che è un progetto di riforestazione di aree di pianura. Questa attività di riforestazione la stiamo facendo su terreni pubblici, e quindi terreni che non hanno un'altra destinazione. La stiamo facendo in collaborazione con l'ente Parchi del Ducato, che è il soggetto che nella regione ha la responsabilità per un determinato territorio della tutela della biodiversità, quindi ogni progetto di riforestazione nasce dall'ente Parco del Ducato e tiene conto di tutte le esigenze che ci devono essere nella progettazione di un parco, non è banalmente piantare un albero. E quindi questo ha ovviamente un contributo sia dal punto di vista della sequestrazione del carbonio, ma un beneficio anche legato al tipo di intervento. Ovviamente noi avremo il desiderio che questi interventi non fossero solo interventi del piantare degli alberi, ma quello di sfruttare anche le funzioni ecologiche di queste aree riservate alla natura. Quindi abbiamo fatto anche questa attività di tipo proattivo e l'abbiamo esplosa su più iniziative, sono 50.000 metri quadrati, 1.000 piante di cui 120 sono querce, quindi alberi che dureranno centinaia di anni. Per concludere cerco di spiegare il perché facciamo queste cose. Noi facciamo queste cose perché siamo convinti che il successo della nostra azienda, la nostra azienda è un'azienda che ha avuto una crescita di fatturato esplosiva, nel 2004 fatturavamo 30 milioni di euro, oggi ne fatturiamo 460, facendo solo pomodoro, portando il pomodoro in giro per il mondo. Lo facciamo perché ci rendiamo conto che una parte della qualità, una parte di quello che portiamo sulla tavola dei nostri consumatori deriva dalla qualità dell'ambiente dove operiamo, in termini di sostanza organica che è presente nei terreni, da noi ci sono gli allevamenti ancora nelle stesse aziende dove facciamo il pomodoro, per la storia del parmigiano reggiano, lo facciamo in termini di disponibilità delle acque, ma in termini anche di conoscenze, di competenze tecniche dei nostri coltivatori. Quindi il territorio dove operiamo ci ha portato grandi esternalità positive. Noi sentiamo da un lato la necessità di restituire qualcosa, poi si potrà dibattere se è abbastanza o se non è abbastanza, però noi abbiamo sempre sentito la necessità di rinvestire nei territori dove operiamo, ma questo lo leggiamo non dal punto di vista delle buone azioni, ma soprattutto dal punto di vista della continuità del business. La nostra è un'azienda che ha 120 anni, fa solo pomodoro, e per continuare per questa strada per noi è fondamentale pensare che il territorio dove svolgiamo le nostre attività, sia all'interno dei nostri cancelli che tutta la filiera che è a noi collegata, deve essere un territorio che deve evocare qualità, benessere e tutto quello che ci va dietro. Spero di non essere dilungato troppo. No, al contrario la ringrazio perché questa chiusa che poi avrei sollecitato e voglio farlo poi con il dottor Gansori, è molto importante nel momento in cui ci fa capire che oltre a essere un obbligo, vogliamo chiamarlo sociale, civile, eccetera, la pratica della sostenibilità alla fine è anche il modo più intelligente per perseguire l'interesse aziendale legittimo, che è quello della continuità, il primo interesse, nel modo più efficace. Quindi grazie mille.